Buongiorno dalla Tgme della cronaca in primo piano. Una banda specializzata in assalti ai tir è stata sgominata dalla polizia stradale di Palermo. Sono sei le persone finite in manette. I reati contestati vanno dall'associazione per delinquere diretta alla commissione di rapine a mano armata con sequestro di persona fino alla detenzione di armi da fuoco e alla ricettazione. L'indagine rappresenta il seguito dell'operazione Ciac che già nel dicembre del 2009 portò all'arresto in flagranza di quattro rapinatori e alla liberazione dell'autista che in quell'occasione era stato preso in ostaggio. Gli investigatori hanno accertato anche il coinvolgimento degli arrestati in almeno nove rapine commesse nell'arco di sei mesi ai danni di conducenti di tir. Durante l'operazione è stata recuperata refurtiva per diverse migliaia di euro. Bagno di folla ieri per il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano in visita a Catania. Il capo dello Stato ha incontrato il sindaco, il prefetto, ha partecipato anche ad una cerimonia all'università. Infine l'incontro con i lavoratori della ST Microelectronics. Sviluppo e lavoro i temi centrali della visita. Su questo fronte gli studenti catanesi hanno rivolto il loro appello al presidente. Bisogna puntare sul merito e sul lavoro hanno detto per fermare la fuga dei cervelli. Di questi temi ha parlato lo stesso Napolitano tenendo a battesimo la nascita del distretto sud-est Sicilia. Fuori da Palazzo degli Elefanti ad attendere il capo dello Stato c'erano anche centinaia di bambini delle scuole. Non sono mancate le proteste. Un corteo ha attraversato la città con slogan anticrisi e i lavoratori della Micron hanno tenuto un presidio silenzioso in piazza Università. E' stato condannato all'ergastolo Samuele Caruso, ragazzo di 24 anni che nell'ottobre del 2012 uccisi a coltellate la 17enne Carmela Petrucci e ferì gravemente la sorella Lucia, sua ex fidanzata e bersaglio della sua aggressione. Il GUP Daniela Cardamone, dopo quasi quattro ore di Camera di Consiglio, ha pronunciato la sentenza accogliendo le richieste dell'accusa. In aula era presente l'imputato per il quale la difesa aveva chiesto l'infermità mentale. I suoi legali presenteranno ricorso in appello. Soddisfatti invece i legali della famiglia Petrucci che hanno parlato di una affermazione di giustizia. La sorella della vittima Lucia e i suoi genitori erano presenti in aula al momento della lettura del dispositivo e a preso dell'ergastolo sono scoppiati in lacrime. Con loro anche i compagni di scuola di Carmela, le due sorelle, frequentavano il liceo classico Umberto I e da lì rientravano proprio la mattina del delitto. Beni per circa 15 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza ad un uomo di 75 anni di Corleone, Bernardo Riina, è accusato di avere coperto la latitanza di Bernardo Provenzano, favorendo anche la circolazione dei pizzini dal carcere verso l'esterno. Sigilli sono stati apposti a 44 terreni e 4 fabbricati. Il provvedimento è della sezione misure di prevenzione del tribunale. L'anziano era stato arrestato nel 2006 per associazione mafiosa, poi condannato ad otto anni di reclusione. Una sentenza è divenuta definitiva nel novembre del 2009. Armati di coltelli e taglierini rapinavano banche tra Milano e Torino. Cinque persone, tutte componenti di una stessa famiglia originaria di Palermo, sono state arrestate con questa accusa dalla polizia di Milano a dare il via alle indagini, l'ultima rapina commessa nell'agosto scorso alla filiale Unicredit di Milano. I poliziotti li hanno individuati, hanno scoperto così che i cinque arrivavano da Palermo e commettevano rapine nelle varie città del nord approfittando dell'ospitalità di altri familiari. L'unico incensurato era un cugino 24enne, proprio lui aveva il compito di porre il proprio dito sul biodigit, lo strumento per l'apertura delle porte girevoli negli istituti di credito. Furti in appartamento, detenzione di armi da fuoco e spaccio di droga. Con queste accuse nove persone sono state arrestate dalla polizia messina, fra loro anche un ex agente di polizia penitenziaria. L'uomo è accusato di corruzione, dietro un corrispettivo in Danaro avrebbe introdotto droga in carcere. Ancora un incidente sul lavoro in Sicilia. La vittima è Salvatore Bongiovanni, un operario di 56 anni, morto mentre eseguiva lavori di manutenzione alla condotta idrica dell'Alcantara a Letoianni, in provincia di Messina. L'uomo è stato colpito da un violento getto d'acqua che lo ha fatto precipitare in una fossa profonda, circa 3 metri. Ieri un operaio 42enne portoghese era morto a Saponara, sempre nel messinese, per il cedimento di un traliccio. Molta paura ma nessun ferito ieri sera per l'incendio nell'impianto Powerformer della raffineria Isab Sud, nella zona industriale di Priolo. L'incendio, preceduto da un botto avvertito anche a distanza, si è verificato nella zona dell'impianto destinata alla lavorazione delle benzine. Sul posto sono intervenute diverse squadre di pronto intervento e dei vigili del fuoco dopo essere stato messo in sicurezza l'impianto è stato fermato. E noi ci fermiamo qui, questa era l'ultima notizia, l'informazione però torna più tardi. Grazie e buona giornata.